Dal 1 al 7 ottobre avrà luogo la settimana mondiale per l'allattamento materno e proprio in occasione di questo importante evento la USLA 10 ha presentato nei giorni scorsi l'iniziativa Il Salotto dell'Allattamento City. Questa nostra iniziativa l'abbiamo considerata importante anche come un elemento di novità nell'ambito della promozione della cultura dell'infanzia. Abbiamo pensato di riporre al centro del sistema quelle che è la mamma, la famiglia e il bambino. Abbiamo trovato subito persone molto recettive, una grande sensibilità da parte della comunità che ci ha accolto. Ci sono 14 esercizi commerciali che ci hanno già accolto però molti altri ci hanno chiesto e ci hanno dato la loro adesione disponibili ad accoglierli. Per noi un grande successo. Salotto dell'Allattamento City nasce partendo dalla positiva esperienza di Salotto Allattamento che si svolge presso il consultorio familiare di San Donà di Piave. Nasce dal Salotto dell'Allattamento che è una nostra attività all'interno del consultorio dove le mamme possono venire a allattare, chiedere informazioni e condividere esperienze del loro parto e dopo parto. In città perché proprio sul loro suggerimento nel momento in cui possono essere a passeggio per la città per motivi di spese piuttosto che impegni nei vari uffici si trovano a volte in difficoltà per non avere uno spazio, non trovare una disponibilità da parte di esercizi che possano ospitarle per nutrire il loro bambino fondamentalmente. Una vetrofania rappresentata da una donna stilizzata che allatta un neonato sarà esposta nelle vetrine degli esercizi che aderiscono all'iniziativa. Ma proposte a tutela e garanzia dell'allattamento al seno vedono anche in prima linea il consultorio di Porto Gruaro. Noi ormai abbiamo l'ambulatorio dell'allattamento nei tre distretti Porto Gruaro, Caorle, San Stino e anche San Michele in collaborazione con l'unità operativa di pediatria e nella settimana moderna dell'allattamento presenterà l'unità operativa di pediatria il progetto Skin to Skin che viene fatto proprio subito dopo la nascita per favorire l'allattamento. Inoltre sempre a San Nona di Piave in occasione dei festeggiamenti della Fiera del Rosario nelle giornate del 4, 5 e 6 ottobre presso il Centro Culturale Leonardo da Vinci sarà attivata una zona per l'allattamento e la cura del neonato con la presenza anche delle ostetriche del consultorio familiare.